Se voi accumulate 150.000 punti canale potete riscattare il pacchetto riscattate e se dentro il pacchetto trovo una carta rara leggendaria di qualsiasi valore insomma superiore almeno a 5 euro superiore a 5 euro ecco una carta rara insomma ve la spedisco a casa Allora dicevamo ragazzi se trovo charizard stasera qualsiasi salsa pure carta base me la faccio pure in realtà nella tua strada E' lo 0,000 un per cento tra le due allora vai che stavano a piano energia terra o una terra allora via Chi è parla? Liebard quindi già promette bene questo pacchetto già promette abbastanza bene Chi è? Questa chi è? Oh ginepro ginepro chi è? Bella allora recluta del team Yella carica questo dovrebbe essere No fa schifo carica dieci fa schifo però c'è sessanta dei bs e si sponerà da sotto che sta una carta che io non vi Sua blu poi qua blu pochi a cattivo ulpix questo mi ricorda qualcosa è questa farà un'aere verità o Ma ciò Bella ti piace un basso e una bella legnata qua sotto gli denti porco di abri l'evoluzione c'è quattro braccia quattro bacia Ma c'è un po' si chiama ma ciò ma voglio vedere voglio trovare assolutamente Pronto? Questa carta qua è per Cicrai? 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 Porca puttana Fuori serie arcobaleno Porca ma Porca vacca Porca vacca E questa varrà almeno 30 euro penso è pure di più forse Sto scherzando Orca Cuscio solido Orca la puttana Fermene Allora Energia acqua questa eh? No questa energia buio Buio? Si E' buio e poi vogliamo un buio Dico Arbok è un po' come un buio su sto gioco Buio Arbok BG Rotom Due scatola Un'altra orca Aspetto Scraggy Eggans C'è Snake al contrario Kakuma Una gran cacata Che qualcosa qua dentro eh? Mi sa Lo vedo Swablu Energia Vediamo se lo sai Bona Qual è? Metallo Bravo Mi è piaciuta Bella specchiata Interessante Pronti? 3 2 1 Si lava 2005 Buona Carina Carina Bella Questa vale 7 euro Bella Buona 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 Guarda e Guardi è uno dei miei Guardi e Guardi Andiamo Energia Ma questa gomma Marta Rotom Marta Rotom Ma l'abbiamo visto niente prima Absol questa pure prima Megapole l'abbiamo trovata prima pure Bullpix anche l'abbiamo trovata prima Lione di Galar Pura totale Pura totale Pion No è quello prima del gatto Di quello di prima che abbiamo trovato Non mi ricordo il nome Ecco l'amicone di Matteo Quando trovi Kakuna che fa cacà Sweet Doll e quelle altre cose E invece stavolta troviamo Chariz Ed è Lanciarock 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 3 2 1 OEEE Buona Buona Sarebbe la stessa che ha trovato Sincri Però V V V V V V V Vale un po' di meno vale Sarebbe Sarebbe quello piccolo di Sleapid Sarebbe quello piccolo dei senti scorcio Intorno ai 10-15 euro Allora Energia Foglia Pronti Raga Vado di Eppard Beat Una totale Scraggy Furlion Machop Non è male Machop Un'altro Machop Non è male Machop Un altro Machop questo Ciò Tu e tre brillanti Sciop Machop Machop Ma ciò che ma! Vi piace! Mi piace! 3 2 2, 1, 2! Durellion! Buono! Patatina dura! Buona la patatina dura! Durellion dai! Durellion! Buono! Allora Psyco dai, voglio trovare un cazzo di cializzato. Intanto ce ne abbiamo ancora una cinquantina dei pacchetti di questa espansione, quindi magari... E basta, mamma mia! E lo voglio! Allucinante quanti ne stai trovato! Dopo fanno il conto! Belle, sono sempre belle le persone. Ma c'è sta guida, non c'è strangazzo. Allora, vai! Questa è energia Daiko, Yarrow, Turfield, Slitzpiede. Bellissimo! Pokéball! Ta-ta-ta-ta! Se pesco di nuovo! Quella carta! Zaggard! Domani piccio fuoco là fuori! Io lo fumo! Kakuna è insieme a Weedle! Insieme! Oh madonna! Oh però è bella, 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 bella! Mi piace! Questa è rara, ragazzo! Questa è rara, so convinto! Dai, bel fa! Dai! Ma che è?! Ma che cazzo è?! 80 su 63, su 83! Questa è rara, è rara! Ma che cazzo è?! Porca vacca! Porca mad**a! Ma questa è la carta mia! Ghandi! Hai capito Weedle? Bella Weedle! Vai, bel fa, vai! Ah, questo è mio! Sì, questo è di Matteo! Vai! Energia! Bit! Moroli-coli, eleno-shock, lione-di-canar, kit, recluta! Buona! Buona! Buona cazzo! Ma quante carte stiamo trovando stasera? Ma quante carte ho? C'era è pieno cazzo! Vati! Questo è il suo pacchetto, signor HS! Arbok! Bello! Hop! Qua ce l'ho, tre, quattro pullarte, non me ne so! Due ce n'hai, ne so! Due! L'altro perché deve andare a qualcuno! Sì, sì! Nooo! Però magari dorato fa l'effetto contrario! Energia formile! Stadio di Goldwick, rispetto ai bacchetti per l'attrice, sto molto vancazzo qua! Eh, mannaia! Galvatulia, questa che cazzo è? Galvatula! Tipo Pikachu! Natalanta è l'elettrica! Eccolo! È tornato! Beh, vedi sta carta da Sendai, le 70 HP, scarta le prime tre carte del mazzo del tuo avversario, con quattro energie! Allora, Riullu, Riullu non è... Ah, Riullu, se esce grosso non c'è nulla, questo attacco non esce! C'è qualcosa sotto! L'ho visto dal mortino! Ferrosid! Ferrosid, che non è quella reversa! Tiena! E? Colossal V! Buona cazzo! Ah, vabbè, metallo! La flega, dai, spero per te che... Ma si è detto così, ma si è detto così e non c'era... C'era, 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 lo vedo, lo vedo, che non lo vedi? Guarda, lo vedi, lo vedi, lo vedi? Ma non me lo fa vedere, vai avanti! Shootol, Shootol... Picky Pack... Picky Guida... The N... Hooper... Yamna... Yamna... Bellezza, ok... Orbital! Orbital! E' buona Orbital! GG! Orbital! Orbital! Orbital, dai! Niente, vai! E' una bella carta, lo stesso! Si, 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 per carità! Ta flega! Meg Cargo, niente di che! Eh, ho capito, però! Questa è leggendaria! Dai, non è una merda! Dai, non è una merda! Dai, ti nego! Di nuovo, questa! Uuuuh! Questa è messina! Buona! Questa è messina! Guarda, quant'è buona! Si riconosce da qua, vedi qua! 133 su 185, che significa? No, non è 138, vedi quel arcobaleno con scritto P? Ah, P? Si, 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 però è guada, è un'ottima carta, ma guarda se bella, guada, è bella! Vale, vale, ma è bellissima, cazzo! Wobat, Hitmon Top! Hitmon Top, par contrario, Hitmon Top, interessante! No, perché dei soliti Hitmon Top si viene in equilibrio con la punta che c'è al testo, invece lì l'hanno messo! Rock Roof, Pochi Iena, Fikipek, Ninjana, Riolu, Brillante, niente di più! Buona! 3, 2, 1... Eeeh! Che bella, porca troia! Buona, oh! 200 punti vita, oh! 200 punti vita basica! Eh, ma... Allora, questo pacchetto è di... Riccaiutti! Riccaiutti! Abbiamo quello che trovi... Energia... Bantula... G... Aromatica... Morso di Cochron... Ipekeek... Sidot... Sandile... Jolti... Perosid... Non vale Charizard! Lo sta andando pure di mod, eh! Non lo sto di s*****! L'ultimo pacchetto! Ah, mo me diverto pure io! Allora, comunque è una rara normale che vale 3! Allora, 3... 2... 1... Niente! Niente! Vai! Pronto? Pronto, pronto! E guardate se lo faccia! Sì